non vi sento più noi noi la sentiamo può procedere bene grazie buongiorno provo a benissimo vorrei ringraziare intanto gli organizzatori in particolare Lucia Sardo che mi aveva segnalato la call for paper di questo convegno e la ragione che mi ha spinto poi a proporre una presentazione costituita dal tema di fondo del convegno che trovo particolarmente interessante dal punto di vista di chi lavora in un settore ibrido per eccellenza come il mio i cosiddetti archivi della moda che contengono materiali estremamente eterogenei e che richiedono l'uso di differenti pratiche di catalogazione trovo quindi questa un'occasione importante per condividere con voi alcune riflessioni ricavate dalla mia esperienza professionale praticata nel settore dei cosiddetti archivi della moda appunto di cui mi occupo da alcuni anni con un approccio storico e di cultura materiale l'intento del mio intervento ahimè non è quello di condividere pratiche o strumenti ma quello di segnalare le potenzialità di sperimentazione di questo settore in cui si è investito finora poco nella gestione di organizzazione della conoscenza ho pensato di suddividere il breve tempo a mia disposizione in due parti la prima parte riguarda una necessaria introduzione generale sul patrimonio culturale della moda argomento anche del mio insegnamento universitario presso il corso di laurea magistrale in scienza del libro e del documento all'università di Bologna a campus di Rimini la seconda un caso di studio attraverso il quale vorrei mostrarvi tipologie di beni culturali su cui occorre una urgente riflessione riguardante catalogazione accesso e fruizione solo recentemente in Italia ci si è posto il tema della salvaguardia delle fonti riguardanti il patrimonio culturale della moda prevalentemente prodotto da soggetti riconducibili ad artigiani e imprese che in quanto enti privati non hanno l'obbligo di conservare la documentazione generata o acquisita nel corso della propria attività quando questo patrimonio è datato invecchiato antico può essere facilmente riconosciuto o degno di conservazione ma quando è nuovo appena prodotto nella gran parte dei casi non ci si pone il problema della sua selezione per la conservazione permanente in un archivio paradossalmente il patrimonio del made in Italy ideato e prodotto quotidianamente è ad alto rischio di dispersione perché il fattore tempo è uno dei pochi elementi che ne determina l'interesse di conservazione e l'attributo di potenziale bene culturale la mancanza di una visione lungo termine di una sensibilità alla trasmissione della memoria è la regione che ha causato la dispersione di testimonianze costituite non solo da capi di abbigliamento e accessori ma anche da documentazione prevalentemente cartacea e digitale concernente tutte le attività aziendali dalla ricerca e concezione dell'idea al suo sviluppo fino alla commercializzazione del prodotto finito le imprese più virtuose negli ultimi 30 anni hanno iniziato a conservare almeno il cosiddetto archivio prodotto il segmento più affascinante più facilmente spendibile dell'archivio storico per intenderci penso l'archivio prodotto è costituito da capi di abbigliamento accessori calzature eccetera dicevo questa è la parte più facilmente spendibile dell'archivio perché è in grado di attestare e raccontare la storia dell'azienda attraverso i beni prodotti da quest'ultima nel corso del tempo e che vengono conservati anche come bacino da cui prendere ispirazione per rimettere in circolo vecchie idee e cavalli di battaglia del brand il concetto di brand heritage cioè il valore acquisito dal marchio nel tempo è attestato attraverso il patrimonio storico d'impresa e oggi diffusamente conosciuto e praticato da tutte le aziende del made in Italy o se non da tutte e dalla gran parte considerato uno dei più importanti asset strategici nell'ambito del settore marketing e comunicazione settore entro il quale è pure gestito anche l'archivio storico d'impresa se presente un archivio d'impresa è spesso comunque costituito a posteriori la recente attenzione da parte del ministero della cultura come il portale archivi della moda del novecento che è stato istituito nel 2009 di cui qui vedete il nuovo sito e la commissione di studio per le individuazioni di politiche pubbliche per la tutela conservazione valorizzazione e fruizione della moda italiana come patrimonio culturale che è stato istituito la commissione scusate istituita dal MIBAC il 12 dicembre 2018 e ha concluso i lavori il 3 luglio 2019 queste iniziative ministeriali dicevo e il successo di alcuni marchi che hanno valorizzato il proprio archivio anche attraverso fondazioni e penso alla fondazione Salvatore Ferragamo quella dedicata a Emilio Pucci Gianfranco Ferré ce ne sono tanti altri bene queste iniziative hanno reso maggiormente consapevoli le imprese della necessità di conservare e soprattutto di conservare tutta la filiera documentaria ricollegabile al prodotto questo è un primo punto su cui riflettere perché la conservazione richiede innanzitutto una selezione di documenti oggetti e contestualmente l'organizzazione dei dati per la conservazione permanente basata sulla imprescindibile consultabilità di questi ultimi prima di tutto per l'azienda ma senza escludere anche la fruibilità da parte di un'utenza esterna cosa selezionare e come classificare questi eterogenei potenziali numerosi complessi documentari è lasciato alla discrezionalità dei proprietari buone pratiche di schedature catalogazione di archivi e collezioni della moda compiute anche in collaborazione con l'ambito pubblico dove la gestione dei beni culturali è considerata è consolidata scusate potrebbero contribuire a creare sinergie virtuose e fare da guida in questo ambito quello del patrimonio culturale della moda dove sono richieste competenze all'incrocio fra l'archivistica la museologia e la biblioteconomia veniamo dunque al caso di studio che vorrei presentarvi che è posseduto da un'istituzione pubblica perché a volte archivi di impresa e segmenti di questi ultimi sono custoditi anche da archivi di stato musei e biblioteche in questo ambito si hanno competenze di conservazione inventariazione e catalogazione ma poca consapevolezza della necessaria interoperabilità fra documenti potenzialmente collegabili ad altri il caso è costituito dal cosiddetto archivio Gruo posseduto dal comune di Rimini che documenta l'attività dell'artista e grafico di origini riminesi René Gruo vissuto tra il 1909 e il 2004 per farvi capire la caratura internazionale di questo artista che è stato il primo illustratore pubblicitario dei profumi di Christian Dior vi mostro una delle sue prime pubblicità del 1948 collegate al famosissimo modello bar di Christian Dior sono giunta quasi al termine dei minuti a mia disposizione pertanto vi parlo di questo tema per immagini mostrandovi l'eterogeneità di documenti che possono trovarsi in un archivio privato di un artista che ha lavorato per il Made in Italy alcune delle più celebri aziende di moda francesi l'intento è quello di portare all'attenzione dei professionisti presenti a questo convegno un caso fra tanti analoghi e aprire una riflessione ed eventuali molto gradite collaborazioni in un ambito che richiede e cito dalla Call for Paper strumenti di indicizzazione in grado di favorire l'intera operabilità fra pratiche catalografiche diverse perché beni culturali della moda non sono costituiti esclusivamente di capi di abbigliamento anche se su questo c'è ancora molto da fare ma da materiale grafico del tutto particolare come quello che vi sto presentando e mi avvio alla conclusione in questa slide vedete grafica su supporto plastico per esempio shopping bag e cartelli vetrina quest'altra slide invece vedete una rivista in particolare l'annata 1933 della rivista milanese Eva e bozzetti originali che sono stati pubblicati anche all'interno di questa rivista infine oltre a manifesti e a cartello vetrina che abbiamo già visto anche come tipologia nella precedente slide vedete al centro delle schede telefoniche si tratta dunque di materiale che per essere compreso richiede una relazione con altri documenti oggetti perché anche quando siamo di fronte a collezioni oppure a segmenti di archivi questi documenti sono appartenuti a complessi documentari ancora capaci di dialogare fra loro sta a noi trovare il sistema per metterli in connessione solo così saremo in grado da un lato di salvaguardare fonti dall'altro di rendere possibile la fruibilità di queste ultime per ricostruire e raccontare la storia di uno dei settori trainanti dell'economia italiana vi ringrazio per l'attenzione grazie